L'avvio dell'anno scolastico è fra luci e ombre nel capoluogo d'Abruzzo, in seguito alla diaspora degli studenti aquilani, dovuta al sisma e al settimo anno in classe nei moduli provvisori. A questo si aggiunge la chiusura di due asili nido su tre e la vertenza delle educatrici licenziate. All'Aquila quest'anno c'è stata anche la stangata dell'aumento per i servizi di mensa, trasporto, prescuola e interscuola. Nonostante ciò però, la richiesta da parte delle famiglie non è scesa, anzi, secondo i dati forniti dall'assessore comunale per il diritto allo studio Emanuela Di Giovan Battista, fino allo scorso 24 agosto le richieste pervenute per l'acquisto di buoni pasto, passati da circa 52 euro a blocchetto a 70, sono state in 988, ma continuano ad arrivare anche in questi giorni. Nessuna flessione neanche per il servizio trasporto, con 775 domande ed una capienza fino a 800 alunni. Sono invece 652 circa le istanze per il servizio di prescuola e interscuola, per i quali si paga una retta di circa 200 euro. Nelle scuole materne e primarie è stato esteso il servizio di sporzionamento, i pasti caldi, il luogo del vassoio monoporzione. L'amministrazione comunale si prepara ad avviare l'iteria per la nuova gara del servizio mensa in scadenza nel marzo 2016, mentre è stato già pubblicato il bando per il trasporto. Sull'avvio dell'anno scolastico pesa anche l'avvertenza delle 14 educatrici degli asili nido, per la soluzione della quale il Comune ha studiato un piano C. La giunta comunale ha l'obiettivo infatti di adottare un atto di indirizzo che autorizzi gli uffici a pubblicare un avviso per titoli, teso ad assumere educatrici per il nido, stilando una graduatoria. È una soluzione che ci darebbe la possibilità di scavalcare il famoso problema della proroga oltre 36 mesi. È una riflessione dell'aggiunta, quindi un atto politico che l'aggiunta condivide perché ci consente di mantenere gli asili pubblici, che era ovviamente oltretutto l'indirizzo politico a cui l'aggiunta non voleva sicuramente rinunciare.